È stata un'esperienza non usuale e certamente non dimenticabile. Ho cercato volutamente di non essere di da scarico e ho chiesto agli ospiti di porre le loro domande e le loro riflessioni in assoluta libertà. Anche per merito del collante della napoletaneità penso che ci siamo riusciti. In effetti è stato difficile o comunque non è stato facile parlare dei valori e spiegare perché si può ancora chiedere nei valori di solidarietà, di libertà, di legalità a soggetti che raccontavano di averle visti per molti anni negati nella loro vita. A me è rimasto certamente un arricchimento profondo. Spero che anche in altri ospiti li aver fatto breccia in qualche modo.